Si muovono ancora nel perimetro dei rapporti familiari i carabinieri che indagano sul giallo dei coniugi Pascio, spariti nel novembre del 2015 da Firenze, dove erano venuti a trovare il figlio Taulant che stava per uscire dal carcere, e rinvenuti in quattro valigie nei pressi di Sollicciano. Gli inquirenti stanno analizzando anche le intercettazioni telefoniche. Non escludono nessuno del nucleo della famiglia Pascio, oltre a Elona Calescia, ex fidanzata di Taulant al momento in carcere. Al vaglio anche le posizioni delle due figlie, Dorina e Vittoria. Nella prima telefonata sull'utenza di Elona, che desta l'attenzione dei carabinieri, dall'altra parte c'è la fidanzata del fratello della Calescia, Gaia, che chiede chi sia il sospetto. Elona non esita ad addossare la responsabilità a Taulant. Ma senti, mi stanno scrivendo tanti, che tanto si sapeva che era lui, che è stato il figlio ad ammazzarli, che era stato Taulant, avrebbe affermato Elona. Contemporaneamente gli investigatori, si legge sulla Nazione, ascoltano le figlie della coppia. Vittoria, che è stata sentita dai carabinieri, dice chiaramente al telefono che il killer è Elona. Pure Dorina, alla sua idea, chiara, su Elona, parlando con un'amica connazionale, dice adesso io sono decisa e dirò che lo ha fatto quella e non mio fratello.